Sembrava un ladruncolo, un topo d'appartamento, ma la realtà dei fatti è ben diversa. A fuori Odischia, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per violenza sessuale e violazione di domicilio un 39enne del posto. Da qualche giorno alcuni residenti di Panza avevano denunciato dei tentativi di intrusione nelle loro abitazioni da parte di uno sconosciuto e i carabinieri hanno aumentato i controlli nelle ore notturne all'interno del quartiere. Le ronde continue non hanno però sortito effetto inizialmente, tant'è che l'altra notte un uomo si sarebbe ugualmente introdotto all'interno di un appartamento. L'ingresso però non è passato inosservato ed è stato notato dai vicini, che hanno prontamente allertato i militari delle forze dell'ordine. Non potendo proseguire nel suo intento, l'indagato ha tentato di fuggire lanciandosi dal terrazzo dell'abitazione. Non è andata bene al 39enne, che è stato subito bloccato dai militari, riportando tra l'altro anche delle lesioni nella caduta, guaribili secondo le stime dei medici nel giro di una settimana. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno scoperto nello smartphone dell'uomo diversi video che lo ritraggono mentre si masturba davanti all'ignara vittima che dorme. Non un caso isolato, ma una sorta di vero e proprio pervertito seriale. Dai video, infatti, è emerso che il 39enne si era già introdotto in passato nello stesso appartamento, all'insaputa della proprietaria di casa. Le manette sono subito scattate per l'isolano. Mentre sono ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Ischia per chiarire se l'uomo sia lo stesso indicato da altri cittadini nei tentativi di intrusione avvenuti nei giorni scorsi o se invece ci siano altri malintenzionati ancora a piede libero per le strade dell'isola.